Pericolo colpo di stato Ieri 500 yazidi, sepolti vivi in fosse comuni. Bagdad. Precipita la situazione in Iraq. Dopo che ieri il ministro per i diritti umani, al Sudan, ha comunicato la morte di circa 500 yazidi, sepolti vivi in fosse comuni, oggi i disordini investono anche la politica. È scontro tra al-Maliki, capo shiita del governo, e il presidente Fouad Moussa. All'orizzonte il pericolo di colpo di stato. Gli USA, intanto, non fermano i raid. 20.000 dei 40.000 intrappolati sui monti del Sinjar, sotto le scude jihadista, hanno così trovato una via di scampo in Siria. Le riforme le decidiamo noi. Venite al Financial Times, non la BCE né la Commissione Europea. Roma. Sono d'accordo con Draghi quando dice che l'Italia ha bisogno di fare le riforme. ma come le faremo lo deciderò io, non la Troica, non la BCE, non la Commissione Europea. L'Italia non ha bisogno di altri che spieghino cosa fare. Intervistato dal Financial Times, Matteo Renzi risponde alle esortazioni del presidente della BCE e aggiunge I politici sono come lo yogurt. Anche io sarò rottamato. Governatore contro ministro. Rossi sfida la Lorenzin. Accoglieremo i fuori regione. Firenze. È duello tra il governatore della Toscana Enrico Rossi e il ministro Beatrice Lorenzin, dopo lo stop al degreto sull'eterologa deciso dal governo. Rossi ha confermato che la Toscana andrà avanti attenendosi alla sentenza della Corte Costituzionale. La Toscana, dunque, accoglierà anche chi viene dal resto d'Italia. È l'unica regione ad aver adottato un atto che consente il trattamento. Tavecchio verso la presidenza. Si va al voto. Tommasi. Interessi personali. Roma. Mancano poche ore al voto e l'affronda anti Tavecchio sembra perdere colpi. Anche Atalanta, Cesena e Verona hanno comunicato il loro appoggio al candidato, considerato inadeguato per una frase definita razzista. Damiano Tommasi, presidente dell'Asso Calciatori, commenta amareggiato. Siamo da sempre contrari alla sua elezione, ma purtroppo gli interessi personali prevalgono sui progetti sportivi. 4 colpi per gelosia. Domenico Notari, vittima dell'aggressione. Salerno. Non accettava la fine della sua storia d'amore e colpisce ben quattro volte il rivale. Raffaele Meffi, barman di piazza Casalbore, è finito in manette dopo le dichiarazioni fornite da alcuni amici del ragazzo ferito. Il fatto di cronaca è avvenuto nella serata di sabato all'esterno di un noto locale salernitano. Gli agenti delle sezioni volanti e della squadra mobile della fessura di Salerno hanno arrestato Meffi, che adesso dovrà rispondere dell'accusa di tentato omicidio. Frenare De Luca. Portificati candidati. Napoli. L'obiettivo è bloccare l'incenso De Luca nella corsa alla presidenza dell'Aggiunta regionale della Campania. Così il Partito Democratico Campano registra la disponibilità di altri candidati. L'ultima in ordine cronologico è quella di Pisa Bossa, parlamentare in carica. A dedicare Bossa è l'area riformista del partito che fa levitare la lista dei possibili candidati al numero di 8. Secondo alcune indiscrezioni sarebbe pronto anche Vincenzo Cuomo, ex sindaco di Portici. Un richiamo a Renzi. Per Napoli firmano intellettuali e movimenti. Napoli. Il documento sarà consegnato nelle mani del premier Matteo Renzi, che sarà in visita a Napoli il 14 agosto. L'obiettivo è quello di richiamare l'attenzione del governo sulla necessità di fare di Napoli una città metropolitana, punto di riferimento non solo del mezzogiorno, ma dell'interno interraneo. L'appello, fino a questo momento, è stato sottoscritto da 160 personalità e da oltre una ventina tra associazioni identi. Al San Paolo arriva il Paris Saint Germain, Amalcourt per gli ex azzurri, Lavezzi e Cavallo. Napoli. Serata da cento in quella di stasera a San Paolo, dove alle 20.45 il Napoli ospita i campioni di Francia del Paris Saint Germain. Per la qualità, notte di emozioni per il ritorno a fuori brutta dei grandi ex Ezequiel, Lavezzi e Edison Cavallo. Magara utile anche per fornire a Benitez preziose indicazioni in vista del preliminare ricerca. Del prossimo 19 agosto contro l'Atletico Bilbao. Il Lisbus si firma pronto l'accordo per il Polo Nazionale di Bulma. Flumeri si va verso lo sblocco di una questione che sta preoccupando da oltre un anno centinaia di lavoratori urbini. L'annuncio della nascita del Polo Nazionale di Bulma ci sarà tra il 14 e il 18 agosto. La notizia arriva dopo l'assemblea che si è tenuta nella giornata di domenica a Flumeri. Soddisfazione per il segretario provinciale della CISL, Mario Melchionna. Intanto restano in attesa i tanti lavoratori che non credono più alle promesse, ma cercano fatti concrete. Elezioni provinciali. Nuovo consiglio. Tornata elettorale il 12 ottobre. Avellino. A votare saranno chiamati soltanto i consiglieri comunali e sindaci. Intanto il 2 settembre sarà emanato dal governo Renzi un decreto che indicherà le competenze per il futuro ente di secondo livello. Fissata la dorata del mandato per i consiglieri, che sarà di due anni, mentre per il presidente sarà di quattro. Palazzo Caracciolo, dopo un periodo di commissariamento, si appresta ad essere punto di riferimento per le amministrazioni locali in un nuovo disegno istituzionale. Attacco sindacale. Stolfa a difesa degli operai forestali al Tirpini. Calitri. Tiene ancora a banco la questione dei 150 operai a tempo determinato della comunità montana al Tirpini che si sono visti stoppare le giornate lavorative dal TAR rispetto ad un ricorso di altre due lavoratrici. La discussione al Tribunale amministrativo regionale si terrà il 18 settembre, ma i sindacati già annunciano una battaglia serrata. La FILAS, Federazione Italiana Lavoratori, Ambiente e Servizi, lo fa attraverso il segretario provinciale Giuseppe Stoffa, che annuncia il TAR deciso senza ascoltare la controparte. Lotta alle leucemie. Avellino sede dell'applicazione della ricerca. Avellino. La spedimentazione sarà fatta presso l'azienda ospedaliera Moscati di Avellino e inizierà in autunno. La terapia studiata per contrastare la leucemia linfatica cronica, che colpisce soprattutto gli anziani, parte da una ricerca di Gianluigi Russo. Il ricercatore del CNR di Avellino lavora come un gruppo di studiosi di New York, con lo scopo di arrivare a realizzare un farmaco che possa essere somministrato in maniera efficace già nel primo periodo della malattia. Cancellati i cento posti. La scuola erpina subisce l'ennesimo duro corpo. Avellino. Alla base c'è la desertificazione dei piccoli comuni. Questa è la maggiore delle motivazioni che ha portato al taglio di cento posti di lavoro in provincia di Avellino. Rispetto alla notizia, sono diverse le prese di posizione. Ad iniziare dal segretario provinciale della Will Scuola, Antonio Doria, l'esponente sindacale, punta l'indice contro la politica, responsabile di non mettere in atto soluzioni a tutela delle piccole comunità. Aspettando il Venezia, l'Avellino lavora per l'esordio di domenica. Avellino, la squadra di Mister Rastelli, è pronta per il match con il Venezia. Sarà il primo banco di prova per un team che potrà dare molte soddisfazioni per il prossimo campionato. Infatti, il calcio d'inizio per la squadra bianco-verde ci sarà il 30 agosto, al Partenio, contro la Provercelli. Intanto, il Venezia ha affondato l'Interato e arriva in terra dei Lumi con l'intenzione di portare via i tre punti a disposizione. Nannita muore in Cambogia, 49enne e beneventano, investito da una moto. Cambogia, è stato investito da una moto in Cambogia dove lavorava presso un'associazione umanitaria. La vittima è Giuseppe Cangiano, 49 anni, di Benevento, che si era da tempo trasferito in Asia. Il dramma si sarebbe verificato sabato 9 agosto. La vittima era impegnata da tempo con la SOS 24-7, un'organizzazione internazionale che mira a fornire programmi educativi gratuiti al giovane. Castel Pagano, protoballe in fiamme. L'ingendio si è sviluppato nel tardo pomeriggio di ieri. Castel Pagano. I vigili del fuoco hanno impiegato diverse ore per spegnere l'ingendio divampato nel tardo pomeriggio di ieri nei pressi del Cavalcavia alle porte di Castel Pagano. Ad andare in fiamme 50 rotoballe di paglio e fieno. Il foraggio era stato accadassato sotto il ponte della strada provinciale 62. La strada è stata chiusa per diverse ore in modo da permettere ai tecnici di operare alcune verifiche statiche. Cala e Sipario su Binaria. Conclusasi ieri sera l'edizione 2014 di Binaria. Guardia San Framonti. Anche quest'anno grande successo di pubblico per la manifestazione Binaria. Divenuto oramai un appuntamento classico dell'estate Valle Teresina. Ieri sera dell'incantevole centro storico di Guardia San Framonti chiusura con calici di stelle. Appuntamento organizzato sul territorio nazionale dal Movimento del Turismo del Pino e dall'Associazione Nazionale delle Città del Pino. Sì sì. Vai. Benevento. Buona la prima. Superata la Correggese per 2 a 0. Benevento. La formazione sannita supera la Correggese per 2 a 0 nel primo turno di Coppa Italia. Per i giallorossi, rete di Doninelli e Padella, entrambe nella ripresa. Gli ospiti hanno giocato l'intero secondo tempo in 10 uomini per l'espulsione del centrale difensivo Bigolini. I ragazzi di Mister Brini avranno una settimana di tempo per recuperare le energie prima di tornare in campo. Il prossimo 17 agosto, a Chiavari contro la Virtus Sentella. Con questa notizia vi salutiamo, dandovi appuntamento a domani. Per approfondimenti collegatevi al nostro sito www.lanostravoce.info Grazie a tutti.